ecco poi vi faccio due amore le cocoline della mattina buongiorno, grazie di essere qui con me oggi oggi voglio fare un piccolo vlog morning routine con voi mi sono appena svegliata, ho giusto il tempo di impostare un po' le cose però questo è ho una certa giuletta, comunque sono le saranno le otto e mezza, mi sono svegliata alle otto qui vi state aglietando con i suoni di amiche la mia sveglia varia tantissimo quando c'è scuola a casa, quando c'è scuola in presenza il mio giorno libero, ho una live di Twitch il giorno prima, tipo la domenica quindi varia fondamentalmente dalle 6.50 alle otto e mezza proprio routine forte routine forte è sempre uguale in ogni caso, una cosa che è sempre uguale è questa qua che sale sul letto circa verso le 6, 5 e mezza, 6 e si butta e quindi noi ci svegliamo con lei sul letto fondamentalmente e amore in realtà lei adesso è già stata fuori perché è un po' tardi e fuori piove quindi si sta leccando le zampe proprio adesso io ho un close up di Ami perché è tanto bello che non si può e si può non vederla bene e amore ecco poi io ho già due amore le cocoline della mattina non mancano di tra le orecchie e mamma mia che sguardo adesso prima di cominciare la mia routine la routine pappa per questa qua e poi si comincia è patata no ma che sguardo a ora oggi piove quindi vabbè mi sembra più rilassante comunque bagno il mio basilico che non è messo in dissuoto poverino questi pazzi in temperatura i capelli che ragino poi metto tonico si rava vitamina C contorno occhi e crema o al control potremmo legare i capelli e crema ecco qui vi voglio mostrare un metodo velocissimo per cambiarsi ovviamente sto scherzando magari qui in nostro dei pantaloni che mi hanno regalato vi lascio la loro pagina su instagram la pagina della sarda e qui ovviamente c'è sempre Ami che si chiede che caspita io stia facendo giustamente ne voglio troppo bene non riesco a non fare le coccole sempre eccomi ovviamente sempre per truccarmi ho usato una di che devo dire che ho utilizzato questo illuminante di pesicaia che si chiama, si chiama, si chiama Adelabuantros ed è bellissimo mi hanno fatto così bellissimo non so se si vedo qualcosa comunque ho messo anche sia sugli occhi che sugli inzegoli poi correttori sempre così tutti i pallabili comunque mi trovo molto bene c'è la sopracciglia che fa un suono bellissimo aspettate scopi da farlo ascoltare e poi abbiamo sugli occhi oltre all'illuminante ho usato questa matita di we make up questa borgogna bellissima rubica ressa rubino mascara questo sembra bellissimo eccolo eccolo così lo scomolino e come blush questo qui di Alessandro Ratti per Cosmai Fire colorazione c'è che mi sono uno molto bello però bisogna stare attenzione un attimino a quanto ne si mette anche perché mi piace tanto per sfumare la matita ho usato questo pennello che è di Goofy ma in generale potete trovarlo in molti posti però è un pennello comodissimo io lo uso spessissimo quindi questo era semplicemente il look di oggi tisana io uso questa qui del temma faccio sempre nelle scorte tipo di 5 o 6 pacchetti tè del boccio non diciamo così con lemongrass e melissa non ho idea che 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 è buonissimo ora prepariamo il porridge di solito si prepara la sera perché altrimenti si perdono 10 minuti ecco però oggi lo prepariamo insieme un po' di solito Grazie a tutti. 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 Allora taglio un'ultima fracola e le metto nel burro e le altre sono già tagliate. Poi le metto piano piano. Sopra qui io ci metto anche il burro di nozzone. Non riesco a farlo vedere bene. Sono nozzone 100% semplicemente tritate per 20 minuti nel mixer. Trovate su YouTube tantissime ricette e tutorial per farlo. E' la cosa più buona di questo prodotto è la cosa più buona di questo mondo. Prima ammetto di guardarlo anche la prima ammetto di guardarlo anche a letto perché sono curiosa di vedere i commenti. Rispondo ai direct insomma. Poi durante la mattinata comunque. qualcuno che è un'ultima ammetto di guardare i commenti di guardare i commenti di guardare i commenti. non perdo. Non perdo tempo perché ho sonno eccetera. Poi vi faccio vedere anche che trovi ho chiusato ma ho letteralmente una matita mascara e il correttore il blush. E ho già il super sopracciglia quindi è una cosa molto molto semplice. e oggi in realtà è domenica e abbiamo l'appuntamento per definire un po' le ultime cose da fare per il matrimonio non vi parlo molto del matrimonio anche su instagram così perché in realtà è abbastanza semplice capire c'è un'incertezza volle cioè non sappiamo se la nostra data sarà ufficiale perché non sappiamo quanti invitati potremo avere se ci sarà il coprifuoco e tante cose se si potrà fare un matrimonio si potrà fare il ricevimento quindi insomma non ve ne parlo perché non lo so non lo so anche io quindi quando mi chiedono come siete messi col matrimonio mi chiedo fondamentalmente chiedi a draghi quindi insomma questa è la situa io vedo alcune morning routine in cui si comincia a lavorare davanti al compito non mangiando la colazione è una cosa che non supporto fare a meno che non sia di fretta non lo faccio mai la colazione è la colazione prendo anche la b12 se non mangiate carne e pesci derivati anche solo carne e pesci fatevi controllare per la b12 nel caso prendete l'integratore che è molto importante bene ci vediamo dopo adesso mi metto un pochino a lavorare ai computer voglio finire di editare il video che voi avrete già visto ma oggi è domenica 11 aprile e se riesco a editarlo stamattina oggi pomeriggio presto ne spoilererò una parte buona nel gruppo dedicato agli abbonati della piattaforma viola ve lo scrivo qui cos'è la piattaforma viola dove faccio live e ho messo appunto come vantaggio per gli abbonati di avere degli spoiler grossi di nuovi video quindi si ho deciso di farlo per quella piattaforma e non per youtube perchè sulla piattaforma viola ci si può abbonare anche gratuitamente con prime su youtube no quindi insomma mi sembrava giusto la possibilità di avere questo vantaggio comunque è da lavorare devo editare il video un video che avete già visto quindi non vi sto esbarerando nulla e vediamo come è venuta la transizione qui beh dai ci sta qui tra l'altro sono tutti tentativi di farla guardate vabbè pace prima di staccare vi faccio vedere anche le emoji della piattaforma viola diciamo così il gelatino bellissimo lo amo il cactus il cactus raga che legata ho sbagliato ho fatto partire il microfono aiuto meraviglioso e il pennello questo forse è il mio preferito meraviglioso pazzesco bellissimo bene per questo per questo amore mi vuol dire un po' vlog un po' particolare è tutto contate che di solito io incastro un po' le cose cioè scatola di sana metterlavo il viso per poi le feste di prima un po' leggera sera prima non è tutto così lento di solito di mattina magari in ogni caso adesso io spero che il video vi sia piaciuto e io penso proprio 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 dall'ora di abbassare le luci e augurarvi una buona, 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 buona notte, buona notte, sogni, sogni, sogni d'oro, sogni, sogni, sogni d'oro. Buona notte, sogni, 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 sogni